Musica Ciao a tutti, bentornati in questo nuovissimo video e benvenuti in un nuovo vlogmas Allora, oggi è domenica e oggi voglio fare un video, un altro vlogmas per dirvi che lancio un hashtag askale Se non sapete di cosa si tratta, ve lo dico subito Allora, in pratica, un askale, voi dovete farmi delle domande sotto questo video e io risponderò a queste domande che mi farete sotto questo video Però, prima di fare le domande, dovete mettere l'hashtag askale e poi fate tutte le domande che volete Io, nel prossimo vlogmas che farò, risponderò a tutte queste domande che mi farete Io spero che me ne farete tanti, perché? Boh, cioè perché non lo so Quindi, fatemi domande sotto questo video e non dimenticate l'hashtag askale E se per favore li potete fare in un unico commento Tipo, non li fa tutti sparsi, perché poi mi confondo Quindi, se potete fare tante domande, più di 10 o anche meno di 10, sotto un unico commento Cioè, se è una cosa iniziando Allora, se potete fare tantissime domande, io risponderò a tutto Grazie mille E un'altra cosa che volevo dirvi è che io non ho idea di video Quindi, se potete vedere qualche video del mio canale, ditemelo qua sotto E io cercherò di accontentarvi E nulla Questo video era così, un minuto e 25 così Per darvi questo avviso dell'hashtag askale E se voi volete farmi domande, vi do un bacione Grazie mille Io vi saluterò nel video, più risponderò alle vostre domande E nulla Spero ne farete tante Lo continuo a ripetere E nulla Se il video vi è piaciuto, lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale se siete nuovi Attivate le notifiche, la campanellina E noi ci vediamo domani con un prossimo Vlogmas Non dimenticate, qui sotto, le domande Ciao